Vincinanza è una parola chiave per Alleanza, perché fa parte di noi, fa parte del nostro modello territoriale, fa parte del nostro modo di interpretare la relazione con il cliente, perché Alleanza va a casa del cliente, non aspetta che il cliente passi in agenzia come fanno le altre reti. Cosa fa la differenza nell'esperienza del cliente? Due fattori, vicinanza, intesa come presenza fisica, frequenza di visite che facciamo al nostro cliente e professionalità, intesa come qualità della nostra consulenza. Dobbiamo esserci quando, dove e come il cliente ha bisogno di noi, nei canali in cui lui è abituato ad essere. In un certo senso la nostra vicinanza deve raddoppiare, perché è una vicinanza fisica, quindi fatta di visite di persona, ma fatta anche di velocità e tempestività, ma allo stesso tempo deve essere una vicinanza digitale sui social, i social usati professionalmente, perché i social ci consentono di conoscere meglio i nostri clienti, di fatto è un flusso continuo di informazioni e di dati sulla loro vita e la loro famiglia. Ci consentono di comunicare a tanti in contemporanea, è un canale alternativo di comunicazione. Ci consentono di sviluppare le relazioni con i nostri clienti, perché incrementiamo l'interazione con i commenti, like e anche di aumentare la nostra visibilità, perché basta che un nostro cliente condivida uno dei nostri contenuti e automaticamente accediamo a tutta la sua cerchia di amicizie, moltiplichiamo il nostro pubblico. Ci consentono di avere una vetrina professionale sempre aggiornata, ad esempio condividendo i post sulle pagine pubbliche di alleanza di Facebook e LinkedIn e per finire ci consentono di essere sempre raggiungibili. È nato il progetto Smile. Smile sta per Social Media Link Education, che significa che noi dobbiamo imparare a stare professionalmente sui social, perché i social sono uno strumento potente, ma dobbiamo esserci nel modo giusto. Grazie a tutti.